andiamo andiamo stai sento poco da percorso asturia asturia stai 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 ma stai 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 ma che sto andando giusto ecco, non c'è cazzo mi ha allenato, sono batteristi è nudo ma io voglio sapere, non c'è altro non c'è altro ma mi fai vedere oi, che tu che butti le potezioni in terra allora questo mucine cazzo ma stai facendo cazzo mucine cazzo buio, vado qui e metti la cazzo è più bello e ti lo butti in terra non c'è un mucine cazzo, siamo più bello siamo un mucine cazzo non c'è un mucine cazzo non c'è quanto abbiamo un film, lasciate io dire qui non c'è un mucine che cosa ci metti? che è sorrita con la batteria? che cosa è? non c'è un mucine Ma dammit! Buono! Che fai! Ma un giusto seria questo? Buon consiglio! Sto facendo questo Sto stancando Sto stacando il braccio Sto stacando Sto stacando Sto stacando Il capitolo Sto stacando Sto stacando Sto stacando Stacando 남a Ha chi? Come so se ti viene adatto? Questa è proprio una bella tozza. Sì, è una versione. La versione con la simponia Orchesta di San Francisco. Bellissimo! Ma io sono cresciuto a fare questa muscolatura. Non so, non so, non so. Una bella salata prima dei salati. Una bella salata. Sì, una cosa è la Svizzera tutta, non stai vogliono. Questa è più lente. Questa è una grande pizza. Mettete fuori. Dimmi più, dimmi male, dimmi te. Mettici che, mettici che. Cosa è la Danza Maura? 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 Cosa? Cosa è lì? Cosa si chiama? Bacchi? Cosa si muoveva. Ciao a tutti. Cosa si è già? Ecco qui. Hai visto questo fuoco? Cosa si è riloggiato? Non è solo un pomerino, non capisco? Eh, ho capito, ma... Questa dronma è una mano, io Oggi a pelle F Conti tua Frodurare La mia Faron Prendi che il nuovo avanti Cosa Oh, ciao E Ora 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 Faccio Cosa